Un anno di Frimmos, il progetto promosso dalla Fondazione Maria Carta per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri della Sardegna. Sabato scorso la carovana di Frimmos è tornata a Monteleone-Rocadoria, il più piccolo paese della provincia di Sassari, per la seconda tappa del 2018. Un'occasione anche per tracciare un primo parziale bilancio insieme a due dei sindaci dei comuni che hanno finora ospitato Frimmos. Nicola Sanna per Sassari e Daniela Falconi per Fonni. Tra i relatori anche il presidente della Coldiretti Sardegna Battista Qualbu e Alessandra Arru, tra i fondatori della SEO, l'osservatorio delle dinamiche sociali ed economiche della Sardegna. Non possiamo permetterci di perdere nessun piccolo comune, nessun piccolo territorio. La Sardegna ha tanti di quei piccoli gioielli all'interno del suo scrigno, che se ne perde solo uno, chiaramente sta dando un colpo mortale alla propria identità. Il fenomeno dello spopolamento investe soprattutto ai piccoli centri, ma il resto dell'isola non è immune. Ogni anno si registra una diminuzione del numero degli abitanti dell'intera regione di 5.000 unità. Montelione è un paese destinato a sparire in qualche modo se non si mettono in atto le politiche, appunto l'incertivazione comunque di lavoro, di rientro da parte anche di tanti emigrati. Una Sardegna che ha bisogno di soluzioni diverse. Ma che abbiano un denominatore comune che è quello di non abbandonare i luoghi. Un evento che nella seconda parte ha proposto il consueto spettacolo musicale. Dopo i cori della tradizione sarda sono intervenuti tra gli altri Mariano Melis, Francesco Piu, Quillo Sarrazza, Vanni Masala, Ibertas, Icordas et Cannas, oltre ai Double Dose, che nel giorno dedicato a Sardegna e Sardegna hanno eseguito una particolare versione dell'inno Procurade Moderare. La prossima tappa di Frimmos sarà il 6 maggio a Bortigali.